L'offerta riguarda quello che era già previsto nel contratto, quindi la cessione degli eventi orafi. Ha un valore per quanto riguarda il valore degli eventi di circa 5,2 milioni, per quanto riguarda i servizi accessori per la durata del contratto di ulteriori 5 milioni. Quindi è un contratto che vale circa, tra valore dei beni e servizi, 10,2 milioni di euro. Questo consente la chiusura di tutti i debiti di Arezzo Fiere, di avere le risorse per rilanciare l'ente fiera e di concludere un percorso. Italia Exhibition Group vuole le fiere orafi e retine e le vuole subito. IEG ha infatti formulato un'offerta irrevocabile di acquisto con una scadenza ad un mese da oggi. Una cessione anticipata rispetto al previsto 2021 che è stata all'ordine del giorno della convocazione del CDA da parte del presidente Andrea Boldi. I 5 e 2 potranno essere anticipati subito con un istituto di credito. Gli altri arriveranno nel corso del contratto. Diciamo che nei primi 5 anni saranno riscossi circa 6 milioni e mezzo, 6 milioni e 600 mila euro. Nei successivi anni verranno riscossi circa 400 mila euro l'anno. Una cosa che ci tengo a precisare è che quando appunto sono entrato io come presidente della fiera, oro Arezzo fatturava circa 1 milione e 3 e marginava circa 300 mila euro, quindi meno di quanto noi prenderemo d'affitto negli anni successivi. IEG si impegnerà comunque a mantenere i due venti al centro affari fino al 2032 e a legarli comunque alla provincia di Arezzo negli anni successivi. La decisione verrà presa dai soci, quindi da tutti i soci, perché questo contratto è in mano ai soci pubblici, è in mano ai circa 300 soci privati, prevalentemente orafi, ma anche delle banche che hanno investito circa 6 milioni, 5 milioni o 6 sulla fiera. Quindi ha soggetti che non hanno partecipato e non partecipano a giochi politici, ma che ragionano sui numeri. Quindi io sono molto fiducioso che l'Assemblea dei Soci non prenderà una decisione lesiva per la vita della fiera. L'ultima parola dunque è rimandata all'Assemblea dei Soci, ma intanto il CDA di Arezzo Fiere, dopo le dimissioni, è rimasto senza tre membri su cinque, che rappresentavano Comune, Provincia e Camera di Commercio. Restano il presidente Andrea Boldi e il suo vice Elio Vitali, espressione della regione toscana che con il 40% è il socio di maggioranza. I consiglieri sono tuttora in carica, quindi oggi avrebbero dovuto essere qui al Consiglio di Amministrazione, perché il consigliere decade solo quando viene nominato quello nuovo, quindi il regime di prorogazio. Non sono venuti al solo fine di consentire di non chiudere il contratto subito.